Ok, allora per prima cosa devo chiederti il nome e il cognome, il ruolo non serve perché sappiamo che sei il figlio. Sono il figlio Giovanni Valente, sono il figlio della signor Nello. E allora stiamo appunto parlando di questo servizio che lo diciamo insomma, fino a qualche anno fa era tutto un po' campato per aria, no? Si trovavano le badanti per sentito dire, per passaparola eccetera, ed era una cosa. Adesso invece ci sono questi servizi che offrono veramente un sostegno a 360 gradi e questo vuol dire che anche un figlio è più tranquillo. Io fra l'altro sono partito per l'America a 24 anni, ho trovato lavoro, famiglia, quindi io vengo in Italia due o tre volte all'anno da 30 anni a sta parte. Quindi per me è stato importantissimo avere qualcuno a cui appoggiarmi per avere la sicurezza che mia madre quando è da sola abbia l'assistenza necessaria. Quindi ho qualche anno fa per via di un incidente alle costole, insomma ho iniziato a cercare, mi sono fatto un po' di, mi sono informato, un po' di ricerche e sono riuscito a trovare diverse agenzie. Ne ho scelta una con cui adesso mi trovo molto bene. La mamma adesso ha questa partner domestica che lei si trova molto bene, dà un aiuto fenomenale e per me è una sicurezza, insomma posso essere anch'io molto tranquillo. E come ha detto anche mia madre, si voleva avere la sicurezza anche per la signora di essere regolarizzata, avere le ferie, avere l'attricesimo, come viene richiesto l'assicurazione, in modo che vengano a lavorare e siano contenti di una paga che sia dignitosa per quello che fanno, insomma, quindi è importante. Appunto si parla di un servizio che diventa qualitativamente un'altra cosa. Certo, per forza. Il servizio deve essere molto importante, l'assistenza domestica è fondamentale, sono le persone, i rapporti personali anche fra di loro devono essere sempre seguiti in modo puntuale e le società che danno questo servizio, in questo caso per noi è l'ausilia, non so se si possono fare noi comunque, ha dato e dà continuamente un servizio molto importante, anche dal punto di vista tecnico contabile, perché per me, io non vivendo in Italia da 30 anni, non conosco fiscalmente le regole, eccetera, e con l'ausilia mi hanno regolarizzato tutto, mi hanno messo in pace anche mentalmente, mi dicono e mi tengono informato cosa bisogna fare, cosa bisogna pagare ogni mese o ogni tre mesi, contributi vari, quindi so che se ho domande posso chiedervi a email, eccetera, anche quando vengo a Bolzano un paio di volte all'anno, vado anche a trovarli ogni tanto. Ma infatti mi sembra che è diventata una grandissima famiglia questa, eh? Sì, certo, sì, sì, siamo molto contenti e so che anche quando vengono le assistenti o le, 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 non le assistenti, le... La Sabrina viene, sì, ecco, il personale, le operatrici a trovare o a sentire, scambiano anche qualche chiacchiera, il caffè, mia madre è contenta di vederle come se venisse un parente a trovarla, un'amica, quindi sì, è un rapporto eccezionale. Possiamo dire che da figlio consiglierebbe? Certamente, diceva anche mia madre, se qualcuno riesce, se economicamente si riesce a sopportare il peso, certamente il comune magari può dare degli aiuti, non so come possa essere qualche contributo, ma certo, lo consiglierei a tutti, fondamentale. Grazie mille, meraviglioso. Grazie mille. Grazie a tutti.